amici di gossip news ben ritrovati io sono nato e questa una nuovissima pillola di gossip in attesa di rivedere flavio insinna nelle vesti di attore in don matteo 13 il pubblico è curioso di sapere quanto guadagna il nostro conduttore come conduttore appunto all'eredità sbirciando tra qua e là si è scoperto quel suo compenso e a dir poco strato sferico nulla di ufficiale sia chiaro visto che nella rai nel diretto interessato hanno mai svelato reale cachet ma ecco comunque che cosa si è scoperto perché noi siamo curiosi molto curiosi prima di proseguire vi invito come al solito a supportare canale mettendo un bel like registratevi e cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti il pubblico sempre molto curioso di sapere quanto guadagnano i vipponi volti della nostra super tv all'esempio flavio insinna conduttore attore tv quanto si porta a casa per ogni puntata dell'eredità che vi ricordo va in onda quasi tutti i giorni domanda cui cercato di dare una risposta il sito d'agospia va subito detto che quanto riportato dal portale di roberto d'agostino non fa riferimento a cifre ufficiali visto che nella rai né tantomeno signor flavio insinna hanno mai rivelato nulla riguardo cioè non è che uno va in giro a sbandierare ah io prendo questo guadagno questo no no in genere si mantiene un po di privacy soprattutto in queste cose danarose ecco sta di fatto comunque che secondo quanto riportato nella rubrica a lume di candela il cachet del nostro flavio pare essere di tutto rispetto per non dire stato sferico per non dire galattico per non dire intergalattico per non dire tanta roba proprio così si parla di cifra 7 zeri tanto per intenderci in base alle indiscrezioni raccolte il conduttore dell'eredità percepirebbe per ogni puntata ben 4000 euro ora qualcuno 4000 euro cosa saranno mai pensavo di più fermi considerando che il programma di rai 1 vanta l'incirca 250 puntate l'anno il conduttore si porterebbe a casa ben un milione di euro nel giro di 12 mesi un milioncino esentasse no no poi ci pagano le tasse ma quali sono discorsi suoi roba che i comuni mortali comunque si sognano verrebbe da dire diciamo che un milione di euro c'è gente che neanche in una vita intera di lavoro riesce a tirarli su guindico vabbè per non per non parlare del fatto che in sinna non è che sia proprio il conduttore più amato più osannato dagli italiani diciamolo diciamolo in molti ricorderanno ancora la querelle nata dopo la diffusione della parte di sce la notizia di un fuori onda in cui il conduttore dava della nana ad una concorrente io stesso feci un video tal proposito sono passati anni ovviamente no se andate a cercare per l'altro ve lo trovate non vi so dire quando però non solo erano stati diffusi anche gli audio in cui insultava e urlava contro chi lavorava dietro le quinte del programma mamma mia io se beccassi un milioncino di euro ragazzi sarei gentile con tutti ve lo posso dire però è un conto dirlo un conto farlo insomma è passato del tempo è vero ma il pubblico certe cose non dimentica e no e se la gente dimentica google no come dicevano una nota serie tv è anche inevitabile il confronto con il suo predecessore dell'eredità e si ricordiamo che prima di in sinna al programma fu condotto da fabrizio frizzi ciao fabrizio comunque tu sia ti vogliamo bene forse anche per questo i telespettatori si aspettano molto da in sinna difficile ereditare il testimone da un conduttore amatissimo come lo stato signor frizzi va detto che dopo quell'increscioso episodio divulgato la special notitius per flavio in sinna le cose sono filate lisce diciamo che l'hanno un pochino bacchettato a flavio a flavio o ti metti in careggiata perché sennò qui fai una figura di davanti a tutti non va bene comunque da quell'epoca non ci sono più stati incidenti di percorso evidentemente i vertici di vale mazzini ergo rai puntano molto su di lui visto che sono disposti a sborsare un cachet così elevato per averlo all'eredità tra le altre cose va ricordato tra le altre cose così giusto per non farci mancare nulla che il nostro flavio non è che conduce solo l'eredità si guadagna da vivere anche come attore lo vedremo infatti anche nella 13 anzi lo stiamo già vedendo nella tredicesima stagione di don matteo al via proprio 31 marzo appena hanno appena dato la prima puntata qui ancora una volta vestirei i panni del capitano anceschi non è dato a sapere al momento il suo cachet in don matteo ma visto quanto guadagna anche solo con l'eredità può dormire sonni tranquilli ergo potrebbe andare a recitare anche per beneficenza ovviamente non lo farà perché si sa che il denaro va dove c'è il denaro si sa come funziona da non dimenticare poi il ruolo di giurato al cantante mascherato ergo praticamente insieme è arrivato in quel momento nella sua vita dove qualsiasi cosa fa guadagna no anche tiri sul telefono stai guadagnando no tiri una sconeggina guadagni poco ma qualcosa che guadagni e insomma comunque ragazzi queste sono le ultime indiscrezioni che riguardano il nostro flavio insinna vi sareste mai immaginati uno stipendio così esagerato fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete fan di flavio insinna se lo seguite all'eredità piuttosto che al cantante mascherato piuttosto che il don matteo se vi piace come personaggio o non ve ne può fregare meno o se preferite lo zionat fatemelo sapere qui sotto con un bel commento mi raccomando per il resto lo sapete mettete un like cliccatevi al canale cliccate la campanella e ci vediamo alla prossima ciao vedazzi